musica bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su di skywars oggi siamo di nuovo con sto k perché non c'era nessuno con cui raccare però qui mi è perso di vedere un darkfall incredibile e noi ce ne andiamo subito a giocare sono dato che comunque gli episodi dove sono da solo vi piacciono abbastanza quindi cercherò di portarvene più anche da solo e poi appena becco pezzo ne faccio qualcuno anche con lui perché probabilmente nei prossimi giorni vedrete molto spesso pezzo sul canale e scusatemi se non subito cioè stiamo parlando di dopo il comicon perché questi video li sto registrando praticamente il giorno prima che io parta per roma cioè per guidonia in realtà per andare a fare alcune cose che devo fare e il giorno dopo c'è il comicon io mi sto preparando tutto un giorno prima perché sono un genio perché ridursi all'ultimo è tanto bello quindi io lo faccio comunque andiamo subito al centro stavo per dire poi mi avete visto shoppare però voi fate finta che non avete visto niente sembra che mi stia vendendo un ictus e non che io stia facendo l'occhiolino però ok siamo quasi full ferro se trovassi la chest plate sarei un bambino felice le frecce prendiamole tutte intanto ho visto un tizio che cerca di farsi un ponte e io faccio tutto apposato l'hanno già fatto al posto mio le mele d'oro me le piglio tutte uh spot in diamante e mi pare che qui si può andare anche sopra cercando magari di non cadere giù perché altrimenti tiro un bestemmione che mi si sente fuori la strada il cappellino già ce l'ho in ferro le frecce rega mi servono come l'oro quindi uh 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 vedo un tizio qui vedo una freccia che vola dal basso vabbè non sapremo mai che cos'è frecce mi sa che ne ho abbastanza di frecce eh a parte che c'è un tizio lì dentro rega uh uh c'è un tizio lì dentro uh rega se l'ho uccito a frecciate sono il nuovo Oliver Queen c'è proprio ora la salgulu sarà a filo di me dannato vetro ti odio vetro uh lo colpisco ai piedi lo colpisco ai piedi dammi i piedi i piedi dammi i piedi i piedi non si è reso conto che lo sto prendendo ai piedi effettivamente ho smesso di prenderlo mezz'ora fa ah ma io ho ancora un enderpearl quindi volendo potrei fare così e tipparmici su bella zio non te l'aspettavi eh sono magico ok io provo un attimo a risalire qui su perché così sono più al sicuro e ho più spazio soprattutto e ah ma siamo rimasti io e quello praticamente cerco di ucciderlo a frecciate si se io lo prendessi però uh preso preso uh dove lo sto prendendo rega tutto so forte preso dai rega aspetta mi devo avvicinare mi devo avvicinare mi devo avvicinare senza che lui faccia movimenti strani perché se lui fa movimenti strani io perdo tra l'altro penso di essere anche messo meglio di armatura quindi quindi cerchiamo di non far cazzate ok la mela d'oro ce la mangiamo subito perché non si sa mai cerchiamo di metterci in una posizione che se lui ci butta giù ci abbiamo qualcosa dietro tipo così ok io faccio così adesso no nope 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 ok siamo quasi arrivati da lui abbiamo i blocchi si che abbiamo i blocchi ok vai così lo spacco il culo tre spadate buona così seconda partita vediamo che cosa riusciamo a fare ok comunque in questi giorni dovrebbe uscire anche un fact d che tra l'altro se non sapete cosa è il fact d è praticamente il vlog che porto una volta ogni tanto sul canale perché mi diverte farlo e se non sapete come farmi le domande semplicemente basta andare sulla pagina facebook perché di solito quando lo sto per fare lo dico lì e la gente praticamente mi fa le domande quindi se tipo volete che la vostra domanda appare andate sulla pagina e andate a fare la domanda e tutto così cioè è semplice io faccio di nuovo shop mi prendo altre due underpearl e mi tippo da quello lì che è sceso giù e gli devasto l'anima cerbero è giunto la tua ora mi dispiace ok facciamo così tra l'altro e mi sembra di mangiare la mia torre perché se si tippa qualcuno è la fine comunque ho notato che la gente sta scrivendo ehm si raga se sono da solo faccio team altrimenti no e stavolta sono da solo quindi se volete facciamo team ehm io mi tippo eh si magari senza buggarmi eh ma avevi detto team zio e infatti facciamo team dai fai il fai il bravo fai il bravo facciamo team e andiamo a uccidere gli altri facciamo team con Manu3017 scusa date tranquillo zio stai apparendo nel video incredibile incredibile se diverti vip vip oh ma no goodbye ultima partita vediamo se posso shoppare si ho shoppato incredibile questa mappa regà è troppo bella anche effettivamente io qui non avrei dovuto shoppare l'enderpearl ho sbagliato dovevo shoppare le l'arco l'arco e le frecce che tra l'altro c'è il kit arciere l'ho selezionato sono gratis i kit siete seri? io non lo sapevo ok mi sono buttato giù senza aprire la chest però poi l'ho prenduta incredibile ma non vorrei che tipo è il kit youtuber che mi dà i kit c'è la targhetta youtuber che mi dà i kit non lo so sinceramente la prima volta che effettivamente provo a prendere i kit e ho scoperto che a quanto pare sono gratis oh con quale precisione con quale precisione incredible incredible allora mi servirebbero le frecce perchè ho il kit arciere appunto oh unfame che fai? vai da dietro? spacco il culo effettivamente questa qui sembrava un'azione abbastanza cedera regà perchè gli ho tirato un paio di spatate a raffia che l'ho devastato mi dispiace scusami ok intanto ho visto un tizio che sta cercando di venire al centro ma non ha capito che io faccio questo cerbero cioè dai mori fai la brava persona ti sei buttata nell'acqua e la tua fine cerbero devi mori mi dispiace non dovevi andare nell'acqua no 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 minchia mi hanno salvato regà giova ah ok 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 ho capito ho capito ho capito facciamodim ok ho capito ho capito facciamodim però qui c'è un altro tizio regà e questo tizio non sappiamo chi sia minchia devastato aglia 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 ho sentito frecce minchia regà l'ho proprio devastato di frecce ok mettiamo questa qui questa qua e queste le mettiamo qua allora giova è il ragazzo che sta con noi questo qua invece non sta con noi quindi deve morire dai devastato anche te siamo rimasti in tre che è qui l'ultimo si è buttato giù adesso tocca a te giova e ho vinto ok ragazzi questo video termina qui lo sapete che quando sono da solo cerco sempre di ridurre la lunghezza dei video a parte che non ho molto tempo quindi perché dopo questo ne registrerò anche un altro quindi io come sempre invito a lasciare un like, commentare, condividere, iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti datevi saluta e bella grazie a tutti